Perché certi serpenti sono velenosi? Il veleno è la loro arma di difesa e di attacco. La loro vita è una lotta per mangiare e non per essere mangiati. Ed essi non hanno pungiglioni, non hanno artigli e zanne o propocide o corna. L'uomo, tra gli altri animali, sembra disarmato, ma l'intelligenza e il lavoro delle sue mani lo rendono il più forte di tutti, il vero re della terra. Ridacchia una voce alle mie spalle. Forse che gli uomini non possono essere velenosi? Per esempio, amor di parenti, amor di serpenti. Cielo. Un vecchio proverbio. Era tanto che non se ne faceva vivo nessuno. Un proverbio velenoso come una vipera. Non lasciatevi mordere.